Odemar Piguet-Jules Odemar, l'orologio da pulso che unisce eleganza e complicazioni. La collezione Jules Odemar è una linea di orologi che rende omaggio a uno dei due fondatori della prestigiosa casa orologera svizzera Odemar Piguet, Jules Louis Odemar, che nel 1875 si associò a Edward August Piguet per creare e vendere i propri segnatempo. La collezione Jules Odemar si distingue per il suo design sobrio ed elegante, che esalta la bellezza dei materiali pregiati e la raffinatezza delle finiture. La cassa, disponibile in oro rosa, oro bianco o platino, ha una forma rotonda e sottile, che conferisce agli orologi un aspetto armonioso e confortevole al polso. Il quadrante viene proposto con diverse colorazioni, e presenta generalmente lancette a bastone, a foglia o a picche, che si integrano perfettamente con lo stile classico di questi incredibili modelli. Ma la vera peculiarità della collezione Jules Odemar è la presenza di complicazioni orologere di alto livello, che dimostrano la maestria tecnica e l'innovazione di Odemar Piguet. Tra le complicazioni più ricercate, troviamo il tourbillon, il calendario perpetuo, il cronografo, la riserva di carica e le fasi lunari, oltre all'indicatore di alba e tramonto. Queste funzioni aggiungono valore e fascino agli orologi, rendendoli veri capolavori di meccanica e arte. La collezione Jules Odemar ha anche una storia interessante, che si intreccia con quella di personaggi famosi che hanno indossato o posseduto questi orologi. Un personaggio illustre che ha indossato l'orologio Jules Odemar è stato il presidente degli Stati Uniti Bill Clinton, che durante il suo mandato ha sfoggiato un modello con quadrante bianco e cinturino in pelle nera. Questo orologio entrò a far parte della collezione Equation of Time della Clinton Foundation, per la quale Odemar Piguet ha realizzato 126 orologi divisi in oro bianco, oro rosa e platino. La collezione Jules Odemar è una delle più prestigiose e raffinate del panorama orologero mondiale, capace di soddisfare i gusti più esigenti e raffinati.